Bentornati su MyFootballGersie. Vediamo un'altra maglia retro, questa volta del Chelsea, la maglia di caso ovviamente, per la stagione 2007-2008. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La maglia è molto bella e fatta veramente molto bene. Il costo lo vedete qui sopra. Non aggiungo altro, decidete voi cosa fare. Qua sotto in descrizione vi ricordo che trovate tutte le informazioni per comprare la maglia. Prima di lasciarvi, mi raccomando, lasciateci un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale. È un gesto che a voi non costa niente, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Io sono alto 1,75 m e peso 60 kg circa.